Noi non ci stiamo, si dice, si ipotizza, a Vicenza si chiacchiera di un'offerta per l'acquisto di Palazzo Tiene, di una trattativa che potrebbe essere a un passo dalla conclusione. Ci sarebbe una fondazione o comunque un gruppo, non meglio precisato, di imprenditori vocati all'arte, proprietari di gallerie, appassionati frequentatori di mostre, interessati ad acquisire da Bain Capital l'ala museale dell'ex sede di BPV, ampliandola anche con spazi espositivi dedicati all'arte contemporanea. E si mormora pure che ci sarebbe l'idea di investire nell'apertura di un hotel o alla realizzazione di mini appartamenti. Noi, lo ripetiamo, non ci stiamo. Noi significa i cittadini, i commercianti, le forze politiche, tutti coloro a cui noi di Rete Veneta abbiamo dato voce in questi anni e che hanno sempre chiesto che Palazzo Tiene venga restituito a Vicenza. Un risarcimento sacrosanto dopo il crack di BPV che ha lasciato profonde ferite economiche e sociali. C'è un vincolo museale su quelle opere d'arte contenute in un palazzo patrimonio dell'UNESCO e quindi dell'umanità. Non è questione di chi potrebbe comprare Palazzo Tiene, che merita il massimo rispetto, ma è una questione di principio. L'arte è di tutti e i tesori di Palazzo Tiene erano stati messi insieme negli anni grazie ai risparmi dei vicentini. Il governo nel 2017 si era impegnato ad acquisire al patrimonio dello Stato l'ex sede di BPV per farne un museo aperto al pubblico. Se Palazzo Tiene adesso verrà invece acquisito da privati, sarà la sconfitta della politica, l'ennesima sconfitta. Il Palazzo deve mantenere il vincolo museale, su questo speriamo che poi l'eventuale causa del Consiglio di Stato confermi il vincolo perché, leggo anche di destinazioni alberghiere piuttosto che di altro tipo, è chiaro che l'amministrazione comunale può intervenire anche sulle destinazioni, cioè quindi va condivisa con l'amministrazione comunale. Va altrettanto detto che non abbiamo avuto risposte dal governo, a questo punto il ministro Franceschini è anche decaduto dall'incarico, quindi non avremo risposte da parte sua, nonostante le promesse del passato, del Partito Democratico e dovremo ancora una volta da Vicentini arrangiarci per capire se è possibile qualche altra strada alternativa. E allora noi di Rete Veneta oggi rilanciamo con una nuova proposta, visto che il governo non ha mantenuto il suo impegno, allora ci provi il comune ad acquistare Palazzo Tiene? Noi siamo anche titolari di un diritto di prelazione sull'immobile, al pari dello Stato e della Regione Veneto, credo che si debba fare squadra per salvaguardare questo immobile e tenerlo ai Vicentini. Quindi esercitare questa prelazione? Potrebbe essere un'ipotesi, però in questo momento non sono in grado di assumere impegni se non sentite anche il Consiglio Comunale, la maggioranza, le minoranze e un po' tutta la città. Questo non dovrebbe essere un problema. Il Consiglio Comunale nel 2017 con una mozione votata sia dal centro-sinistra che dal centro-destra aveva già sposato l'idea di restituire Palazzo Tiene alla città. Oggi dalle parole si passi ai fatti. Sarebbe un atto di coraggio, un atto di giustizia verso i Vicentini.